A Natale anche chi non usa veramente mai il forno non può evitare di fare i biscotti, almeno una volta. Diciamo che i biscotti sono una cosa che scatena delle reazioni un po' differenti nelle persone. Ci sono quelli che li snobbano dicendo che sono in effetti cose da bambini e invece quelli come me che li adorano e hanno tutta una serie di libri sul tema per farne diversi. Alla fine ammetto che sono più i buoni propositi che non la realtà perché poi gli impasti di base che uso per fare i miei biscotti sono i soliti 5 o 6 ormai da una vita. Dunque ho setacciato la farina all'interno del mixer. Adesso vado ad aggiungere circa due cucchiai non troppo pieni di cannella e poi zenzero macinato, direi mezzo cucchiaino massimo un cucchiaio. Ecco qua, per il burro mi servo un coltello in modo da farlo a pezzettini da tavola. Lo metto tutto insieme facendolo a tocchetti diciamo di circa un centimetro, un centimetro e mezzo, anche due. E ora non mi resta che azionarlo. Vado ad aggiungere il mio miele. 6 cucchiai. Ecco qua, terminato di impastare poi dovremo far riposare la pasta circa una mezz'oretta in frigorifero, a volte in un pezzo di pellicola o di carta da forno. Nel frattempo andiamo a preparare la glassa. Un pochino di bianco d'uovo. Di solito si usa un bianco d'uovo con 300 grammi di zucchero a velo, ma quello che vi consiglio di fare è di partire, se non volete farne tantissima, da un po' di bianco, così. Ecco, senza metterlo tutto. E aggiungere zucchero a velo fino ad aver raggiunto praticamente la consistenza desiderata. Nel frattempo l'impasto intanto è pronto. Ora con un pochino di farina sulle mani, così, lo andiamo a prelevare e lo trasferiamo in frigorifero in un pezzo di carta da forno. Ecco, mentre la pasta ritorna leggermente in temperatura dopo essere stata nel frigorifero, bastano un paio di minuti. Noi andiamo a preparare invece quello che sarà l'impasto per la frolla standard per i biscotti che saranno appesi. Quindi farina, 180 grammi di zucchero e 250 grammi di burro. Poi ci serviranno ovviamente le uova e nella mia ricetta della frolla metto generalmente un uovo intero e un tuorlo. Il tuorlo lo utilizzo da qua, quello che mi era avanzato da prima. Tutto nell'impassatore e mentre lui lavora noi andiamo a stenderci il pan di zenzero. Prendete un tagliabuscotti fantasia, questi diciamo sono carini fatti con gli omini, e poi rivestite una teglia semplicemente con un pezzettino di carta forno, accendete il forno, io l'ho già fatto, a 180 gradi. Mettiamo gli occhietti anche agli altri e vanno direttamente in forno e siamo pronti per utilizzare la nostra seconda frolla che nel frattempo ci aspetta nell'impastatore. In forno, anche la frolla volendo dovrebbe riposare in frigorifero e soprattutto se non la usate subito ovviamente la tenete nel frigorifero e quando sarà poi il momento di utilizzarla per fare i biscotti, la lasciate ritornare un pochettino in temperatura. Dunque, questi li vado a prendere un pochettino più grandi, quindi stendo la mia frolla un po' più ampia, perché il mio tagliabiscotti sarà abbastanza grande. Ma potete fare veramente tutte le forme che volete, cambieranno chiaramente i tempi di cottura, perché per i biscotti piccoli, come gli omini che abbiamo appena infornato bastano 10 minuti, per quelli più grandi magari ce ne vorranno 12-15. Vediamo, ecco qua. Questo fa parte della mia collezione personale ed è uno di quelli che mi piace di più per Natale. Certo, serve un albero un pochettino grande. Questo lo userò più tardi. Prendete uno spiedino o comunque una cosa che assomiglia a questo e con la parte quadrata andate a lavorare così. E abbiamo finito. Volendo, qui possiamo mettere magari per alcuni qualche decorazione, ma mi piacciono anche lisci. Benissimo, non ci resta che infornare. Andiamo a vedere se i biscotti sono pronti. Sì, direi di sì. Iniziano a dorarsi sui bordi e quindi adesso quello che dobbiamo fare è metterli a raffreddare o su una griglia da raffreddamento o anche semplicemente sul marmo e poi decorarli con la nostra glassa. Ecco, voi aspettate magari che si raffreddino un pochettino di più perché chiaramente la glassa prende meglio se il biscotto è freddo. I biscotti sono pronti, devono restare comunque chiari con le punte leggermente più dorate. Ecco, adesso dobbiamo aspettare che si raffreddino veramente bene, quindi direi almeno un quarto d'ora prima di poterli togliere dalla teglia e terminarli appendendo un piccolo pezzettino di spago. Ci servirà per appenderli. Queste sono un'idea molto carina a mio avviso, anche se volete fare un regalo a una vostra amica. Ecco, a questo punto non mi resta che augurarvi Merry Christmas!